oggi è l'11 luglio 1899, Torino, firmato l'atto costitutivo della FIA 1979, ucciso Giorgio Ambrosoli 1859, firmato a Villafranca all'armistizio della Seconda Guerra d'Indipendenza commenta il fatto del giorno Giuseppe De Tommaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno oggi parlerò della vittoria dell'Italia ai mondiali di calcio del 1982 un trionfo per Berdorf e per Pins Grazie